Salve a tutti sono Letizia Centorpi ho 42 anni e vengo dalla Sicilia da Delia in provincia di Caltanissetta il titolo del mio brano è tu sei tutto per me dice tanto perché veramente dall'età di 17 anni il mio primo incontro con Dio nella terra di Meggiugorie il Signore è diventato tutto per me passo passo in questi anni sono sicuramente felice di partecipare a questo festival della canzone cristiana Sanremo 2022 perché proprio per me è un modo per evangelizzare e per dire a tutti l'importanza che Gesù ha nella mia vita grazie e a presto